Il commissario Michele Penta sarebbe pronto a firmare l'accordo sul nuovo ospedale di Padova a San Lazzaro, proseguendo l'azione amministrativa dell'ex sindaco Massimo Bitonci in accordo col governatore veneto Luca Zaia. La notizia colpita come un fulmine a ciel sereno, quanti in città sono contrari a costruire l'opera nella zona di Padova Est, a cominciare dal Partito Democratico. Dal nostro punto di vista non si può procedere senza consultare i cittadini padovani, che fra l'altro detengono di proprietà, diciamo perché sono comunali, le migliaia e migliaia di metri quadri di terreni che Bitonci con una pecca, con una missiva, con un piccione viaggiatore che ha mandato a Zaia mezz'ora prima o mezz'ora dopo, non si capisce di essere defenestrato dalla sua stessa maggioranza, aveva regalato a Zaia. Si tratta di un'opera da mezzo miliardo di euro, ricorda Massimo Bettin, sulla quale c'è stata un'insurrezione non solo delle opposizioni ma anche di parte della maggioranza. È la questione per eccellenza della città di Padova, io stimo il dottor Penta, penso che farà un ottimo lavoro, dico anche il suo ruolo in questa città dura sei mesi al massimo. Non è immaginabile che la volontà popolare, la politica quindi, non abbia un ruolo in questa scelta. C'è un appuntamento naturale che sono le elezioni di maggio, in cui i cittadini riprenderanno la parola democraticamente. Una decisione così importante, ribadisce il democratico, deve essere presa dal nuovo sindaco che si insedierà in primavera. Diversamente l'impressione, anche se stia andando avanti di fretta, non capiamo perché, non ci piace e soprattutto pensiamo non sia una cosa coerente con l'interesse pubblico. Sulla stessa linea il movimento Padova 2020 che invita il commissario a fermarsi sostenendo che la questione va dal di là delle sue mansioni di ordinaria amministrazione. A decidere chiedono siano gli elettori.